E' Napoli la città scelta quest'anno per ospitare la giornata del 21 marzo in memoria delle vittime delle mafie. In corteo da Piazza Garibaldi fino al Plebiscito ci saranno lunedì prossimo scuole, associazioni, cittadini, rappresentanti delle istituzioni. Insieme per gridare basta all'indifferenza e ricordare con i familiari i nomi di tutte le vittime innocenti. Il tema della legalità è uno dei grandi temi che devono essere sempre al centro di tutte le nostre azioni, sia delle piccole azioni quotidiane che dei grandi progetti per Napoli. E la scelta di Napoli come luogo per la giornata nazionale, questa grandissima e bellissima marcia, rappresentano per noi un evento simbolico fondamentale, con di grande impegno su questi temi e la città in prima linea. Si parla di più di 200 pullman che arriveranno qui, di scolarischi, di familiari delle vittime e abbiamo lavorato intensamente in sinergia con Libera perché l'organizzazione dell'evento fosse eseguita con grande efficacia. Napoli è fulcro della manifestazione promossa da Libera e avviso pubblico, ma in tanti luoghi d'Italia simultaneamente si sfilerà contro criminalità e corruzione. Loro sono morti, noi devono essere più vivi, ma è una memoria viva che deve tradursi non un giorno all'anno, ma tutti i giorni di più in responsabilità e in impegno. Il mio modo è quello di viverli, impegnandoci noi non a fare degli adattamenti nella società, ma di cambiamenti profondi e veri. Oggi le mafie sono tornate più forti di prima, si sono globalizzate, usano altri tipi di sistemi, se ne parla di meno, si è creato un clima di normalizzazione nel paese. Io mi auguro di essere presti immuni dal virus, ma non dalla responsabilità che abbiamo di essere cittadini non intermittenza, ma cittadini veri.